E' giovane, c'ha pure tu belle cosce, ma chi? La porta, Bernardino le saluta donne, quanto va fatto gode, piagnete, piagnete per me, quante corna. Oh, osti, quanto manca? Ecco, è pronto. Non fa bene, non si fa conto, porta, porta. Documenti, favorisca i documenti, l'altro ti dichiaro in arresto. Ti sei messo paura, eh? Ma che se matta a farsi schifo? Ascemo, stavo a scherzare. No, no, questi non so tre punizioni. Allora chi so? Sono tre, veramente. Sono tre, dico. Dico, dico. E' giusto? Sì. Sono tre. Ascemo, ma che doveva venire così, figlio? Ma come che è un suo venire?